Ehi, ciao Harry! Stai lavorando o stai ascoltando musica? No, avevo un grosso le cuffie perché ho appena finito una call con il cliente. Ciao Max! Ciao, mi hai portato il caffè. Ti do retta solo perché mi hai portato questo caffè. Volevo parlarti di una cosa fighissima in ambito safety su cui sto lavorando. Guarda, ho tutto sul server, spostati un attimo, fate più in là che ti faccio vedere. Lasciami chiudere un attimo, ok. Allora, guarda, sto lavorando su un progetto di un nostro cliente, di un tuo cliente, che è costituito, cioè una macchina modulare costituita da vari moduli che devono scambiarsi informazioni di sicurezza tra di loro, dove quindi ho vari controlli safety e varie parti di macchine che, durante magari cambi formati, possono essere presenti oppure no. E quindi c'è l'esigenza di disabilitarli in modo sicuro. Sì, stavo proprio parlando con il cliente prima di una macchina, in questo caso era una macchina di stampa con appunto il modulo di svolgimento, i moduli di stampa e il riavvolgitore. Una casistica di questo tipo. Sì, esatto. Guarda però cosa può fare il nostro cliente con la soluzione BNR. Fammi vedere. Questi moduli che possono essere presenti oppure no, possono essere abilitati o disabilitati andando a creare dei set di parametri all'interno del progetto safety che possono permettere l'abilitazione e la disabilitazione dei vari moduli di macchina tramite le commissioning option. Guarda. Cosa sono queste commissioning option? Sono un set di file parallelo al progetto safety, quindi tu avrai il tuo progetto safety e i file delle commissioning option che contengono la parametrizzazione e degli opzionali per andare a abilitare e disabilitare le parti di macchine che sono presenti oppure assenti. Sì, quindi qui vedo però soltanto dei booleani, quindi accendi e spegni dei pezzi in questo caso. Non solo, puoi anche utilizzare delle variabili numeriche a seconda del controllore, sono anche presenti questi tipi di parametri oppure come in questo caso puoi andare a definire la parametrizzazione delle funzionalità safe motion, ad esempio di un Acropos Multisafe, andando quindi magari a cambiare la scalatura dell'asse oppure la sua safe limited speed, per esempio. Quindi in questo caso anche mi va a coprire la situazione di un cambio formato, parlando della macchina di prima, un cambio di tipo di sviluppo dello cilindro di stampa e riesce a ricollegare la corretta scalatura per avere la velocità periferica. Esatto. In fase di engineering tu preparerai i set dei parametri in base ai vari formati, i parametri di cui tu hai bisogno. Sì. Poi durante il funzionamento del macchinario andrai a trasferire all'interno del controllore il set di parametri che tu necessiti, senza dover andare a modificare il progetto safety. Molto interessante, ma come fai a fare questa cosa? Allora, una volta che tu hai preparato i tuoi file dei parametri, puoi utilizzare la visualizzazione pre-refinita del map safety, devi fare il login con un utente autorizzato, collegarti col dominio safety e in seguito si ha la possibilità di andare a selezionare il set di parametri che vuoi trasferire, fare clic qua su Browse for data, si può selezionare uno o più progetto del caso e il set di parametri che vuoi scaricare all'interno del controllore. Quindi questa operazione la può fare solo una persona autorizzata con i diritti di correnti. Esattamente, non può farlo chiunque, deve essere una persona autorizzata all'interno del PLC. Ok, ma questa visualizzazione è molto bella, ma quanto ci hai messo a farla? Guarda, ti dirò, saranno sì e no dieci clic di mouse. Ma non ti credo. Sì, perché questa visualizzazione è già esistente all'interno del sistema, si tratta solamente di abilitarla e configurare i ruoli degli utenti che possono interagire con esso. Sai che io ho dei clienti un po' esigenti, quindi tipicamente hanno un HMI con un loro stile, con i loro colori, i loro loghi e tutto quanto. Se dovessi integrare una visualizzazione di questo tipo nel loro HMI è possibile? Mi vuoi proprio far faticare eh? Vuoi anche un caffè a domicilio? Cioè non lo so. Il caffè me l'hai già portato. Vabbè, comunque anche in questo caso non c'è problema perché il tuo cliente può utilizzare i blocchi funzione presenti all'interno di Automation Studio per permettere l'interfacciamento con il Safe Domain e quindi sfruttare tutte queste funzionalità anche con HMI di qualunque tipo. Molto interessante. Ma adesso vedendo poi le reti e la topologia che mi hai mostrato mi veniva in mente una situazione diversa in cui magari ho bisogno di far comunicare una macchina di processo con una macchina di fine linea che tipicamente si interfaccia con dei segnali di sicurezza cablati per essere indipendente dal tipo di prodotto utilizzato. Certo. Magari c'è una soluzione più smart? Sì. Tipicamente le macchine sono collegate tra di loro tramite un cavo Ethernet per almeno scambiare i dati sulla raccolta dati oppure centralizzare la parametrizazione delle testi di produzione. Sì, è abbastanza comune. Se sono collegati tramite un cavo Ethernet con il sistema BNDR è possibile utilizzare l'Open Safety over UDP per mettere in comunicazione le CPU safety tra di loro e scambiarsi quindi i dati di sicurezza senza dover andare ad aggiungere del cablaggio e complessità al sistema. Quindi utilizzando un protocollo standard su una rete Ethernet normale. Esattamente. Molto bello, molto interessante. Ma un altro caso che mi viene in mente è quando ho un PLC di terze parti. Tipicamente magari le macchine sono fatte di moduli prodotti da differenti produttori e quindi una di queste ha una CPU che usa ProfiSafe. Uh, Henry, però se non sai vendere i nostri PLC ai clienti c'è tono a scotare la musica. Va bene Massimo, quando passerai al lato oscuro della forza potrai iniziare a capire. Adesso è inutile che ne discutiamo dai. Comunque anche in questo caso non c'è problema perché tu puoi utilizzare una CPU safety apposita che funziona come Gateway ProfiSafe. Quindi senza aggiungere segnali cablati, hardware per scambiare dati sicuri tra queste macchine puoi direttamente integrarti in questo tipo di rete. Quindi abbiamo una soluzione anche sulle terze parti. Esattamente. Veramente aperto. Molto interessante. C'è un altro caso un po' particolare. Se io avessi bisogno di scambiare dei dati safety ma in tempo reale, quindi con un protocollo deterministico, perché ho esigenze di tracciamento e non posso aspettare le latenze di una rete UDP. Ok. In questo caso tipicamente le macchine dovranno scambiarsi dei segnali che sono hard real time. Quindi per esempio se una macchina o una parte di macchina deve inviare le informazioni provenienti da uno shift register a un altro modulo, sarà necessario una rete hard real time. Quindi se tu utilizzi il powerlink, come nel caso di BNR, utilizzando gli intelligent controller node è possibile scambiare i dati open safety tra le varie CPU e Monier del tutto trasparente. E anche in questo caso non bisogna andare ad alterare la complessità del sistema ed aggiungere cablaggi inutilmente. Anche questo veramente bello. Sì. Hai altri UBR? No, direi che sia stato esaustivo. Ma in realtà io sono voluto per farti vedere… Aspetta però mi sta chiamando il cliente, dai, aspetta un attimo. No, Henry, io sono voluto per farti vedere un'altra cosa ed è proprio quello che ti chiederà lui, che ne stavamo parlando prima. Guarda, ti faccio vedere. Ok, vabbè, ti dedico due minuti ma cerca di essere veloce. Guarda, allora, concentriamoci sulla stazione 2 dove viene svolta la lavorazione 1. Sì. Allora, tipicamente, presso il tuo cliente ci sono due CPU funzionali, una con una CPU safety principale al primo livello e una CPU safety secondaria che deve andare a controllare il funzionamento di alcuni moduli di macchina costruiti da pochi I.O. tipicamente. Sì, vabbè, però dovendoli controllare devo metterla alla CPU. Tipicamente, però, se utilizzi i nostri sistemi e quindi uno dei protocolli che ti ho detto prima, quindi l'Open Safety for DP oppure il Powerlink, è possibile togliere la CPU safety del livello inferiore e mettere in comunicazione questi I.O. direttamente con quella principale. Quindi quello che mi stai dicendo è che la CPU del modulo principale è in grado di andare a intercettare i segnali dei moduli di I.O. della seconda CPU in modo trasparente. Esatto, esattamente. Molto. Quindi tu puoi offrire anche una soluzione scalabile al tuo cliente, nel senso che per magari macchine che sono semplici puoi non avere il controllore qua in basso, mentre per i top di gamma, che magari la complessità è maggiore, aggiungerai quel controllore. Molto utile anche per fare un cost saving in questo caso. Esattamente, esatto. Molto bello. Grazie. Vabbè, Henry. Ora puoi chiamare il tuo cliente. Però aspetta, guarda, ho un ultimo dubbio. Dimmi. Bellissima la rete. Fantastica. Ma cosa succede se cade? Un momento molto interessante. Però ne parliamo al prossimo automation break. Ciao, Henry. Mi lasci così. Eh sì, eh. Ciao. Chiamerò il cliente. Ciao. 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 Ciao.